oramai sul web c'è un coupon per tutto anche per una visita medica niente di male purché l'offerta sia soggettata alle stesse regole valide per i professionisti meno digitalizzati altra cosa è se al momento dell'incasso del buono acquistato dal paziente il suddetto medico non rilascia alcun documento fiscale non si fa e invece è proprio quello che avrebbe fatto il medico della provincia di pescara che per anni avrebbe lavorato senza mai dichiarare quanto percepito per le visite vendute in rete a scoprirlo sono state le fiamme gialle del nucleo di polizia economico finanziaria di pescara nel corso dell'operazione denominata coupon secondo i finanzieri il medico non pagando le tasse dovute avrebbe sottratto all'erario ricavi per più di 80 mila euro il volume d'affari è stato ricostruito tramite registri iva fatture e dati estratti dal rapporto con il portale e commerce che vende buoni per offerte scontate di prodotti e servizi le fiamme gialle ricordano che ogni professionista deve comunque al momento della prestazione anche se ha venduto tramite portale emettere regolare scontrino o fattura con iva per l'intero prezzo del servizio le verifiche ha detto il comandante provinciale della guardia di finanza di pescara il colonnello antonio caputo hanno consentito di far emergere un fenomeno di evasione fiscale nell'ambito di e-commerce diventato terreno fertile per le nuove omissioni di pagamento di imposte si stima che in europa il danno annuale si aggiri attorno ai 7 miliardi di euro l'intero Grazie.